ciao bestioline mi è arrivato un pacco bellissimo ho investito i primi guadagni del mio negozio Etsy per la Resi adesso vi apriamo insieme ovviamente non ho ancora capito che cacchio ho buttato il cavalletto quindi mi farò del male fisico perché mi farò molto male voilà come sono contenta e oltre alla resina c'è anche un'altra cosa ma ovviamente io fino ad ora ho registrato con la mano sopra il microfono molto bene molto bene wow wow allora ho preso la resina con i guanti cari vi ho dato 40 euro tra l'altro penso che vi metterò il link di Amazon nell'info box perché alla fine considerando quello che ho preso allora questo qua è una confezione a 301 quindi sono 600 grammi 600 grammi ma non avevo preso 800 ora la cosa devo controllare comunque ho preso la resina questa qua trasparente si 800 perché questo è 500 e questo è 300 ma sono uguali ma non ho preso non si è sbagliato il pargolo arriva si comunque alla fine sono sono 800 grammi di resina e poi ho preso questo che è la la gomma siliconica da colata per fare gli stampi componente A e il componente B questa me la devo studiare bene e anche qua vabbè ci sono i guantini e calcolate che io ho 800 grammi di resina più questo è un mezzo chilo di 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 gomma siliconica gli ho pagati 40 euro alla fine perché erano 39,90 però comunque è un un buon prezzo se calcolate che io l'altra resina che avevo l'avevo pagata forse 22 euro solo quella ed era meno di questa a parte che era una resina diversa questa è tutta roba della della Resin Pro vediamo come come mi trovo si qua ci sono ancora le chiave della macchina gli occhiali vabbè sono appena arrivata a casa ho trovato il pacco e niente non vedo l'ora di usarli li useremo insieme suppongo così vediamo insieme come non fare le cose sarà ovviamente il modo in cui le farò io e niente ci vediamo al prossimo video ciao